Credo che rivedere la propria storia riproposta sul palco sia un'emozione indescrivibile Per carità anche il matrimonio tradizionale è sicuramente emozionante Vedere una persona che interpreta te stessa su un palcoscenico Di fronte a tutti gli amici, tutti i parenti È una grandissima emozione Ha pure commentato la foto del profilo Sì, fa bene a scriverti Sei stata tu che gli hai dato il contatto l'altra sera da un nano Sì, ho capito, però mi imparate Le persone non si sposano più per lo stesso motivo Il matrimonio è cambiato, eppure il rito è rimasto lo stesso Quello che proponiamo noi è di adeguare il rito alle motivazioni e ai tempi del matrimonio moderno Prima si ride, poi ci si commuove Poi magari si fa dei salti sulla foltrona Si applaude, ti viene anche voglia di partecipare E poi magari si ride ancora e poi si finisce col piangere come dei bambini Noi pensiamo che il diatronico oppure ci sia una storia e noi ve la racconteremo sul palco Il matrimonio in teatro ingloba al suo interno anche il rito civile Infatti a fine rappresentazione è prevista la partecipazione del sindaco di un suo delegato Che celebra il matrimonio secondo appunto il rito civile Ma fermatemi un attimo, va a fare qualcosa No, dai, c'è stato un appuntamento mamma Ma dai, fermatevi un minutino, va a fare qualcosa Ho appena fatto tu asciuga alla povera E' un modo ovviamente di raccontare una storia d'amore in maniera completamente diversa E la bellezza, le emozioni forti che si trovano nei matrimoni, tra virgolette, più classici E' quella di interagire con gli ospiti che diventano pubblico Noi partiamo dal presupposto che ogni coppia abbia dietro una storia che merita di essere raccontata E il nostro lavoro è quello di recuperare il maggior numero di informazioni possibili Per poter riscrivere questa storia trasformandola in un'opera teatrale D'attrice il lavoro è lo stesso Si impara un copione e si studia il personaggio Il personaggio non è lo stesso di un qualsiasi copione teatrale Si avrà modo di conoscerlo personalmente ed è un personaggio reale Il pubblico che qualsiasi attore desidera incontrare nelle proprie tourne E' un pubblico amico non pagante di un entusiasmo incredibile Perché nel momento in cui si vede il suo alter ego sul palco L'entusiasmo va alle stelle, applausi a ogni scena E' veramente veramente entusiasmante e emozionale Per il teatro ritengo che sia una grande opportunità Per arrivare di nuovo al cuore delle persone Ad essere una vera espressione popolare E poi per gli attori ogni volta un'emozione differente Di interpretare e studiare personaggi completamente nuovi Quindi sposatevi, sposatevi tanto Lo stesso con le haivia E allora Grazie.